è bello quello che avete iniziato dall'anno scorso questo albero di Natale formato da tanti trattori che poi dietro all'immagine del trattore c'è ognuno di voi c'è il vostro lavoro la vostra fatica anche la negazione che ci mettete anche i problemi che affrontate perché penso no dei problemi anche sull'agricoltura come in ogni lavoro ma in particolare l'agricoltura ce ne stanno tanti e allora che questo evento sia per voi un'occasione di spinta per vivere e soprattutto lavorare con entusiasmo perché poi se non lavorate voi noi non manniamo più quello sicuro ecco voi diciamo così siete un po' coloro che veramente portano avanti il mondo intero possiamo dire così ragazzi buongiorno a tutti ben trovati e naturalmente non siamo tutti dopo il pomeriggio ce ne raggiungeranno altre tanti mezzi e niente io vi auguro un buon proseguimento un buon caso io come tutti gli altri ragazzi siamo molto molto contenti della vostra partecipazione anche perché siamo non raddoppiati ma triplicati rispetto allo scorso anno quindi quindi questo è una bellissima cosa per noi evento storico oggi a Santo Stefano ecco il drone che arriva e Marco inizia a far sistemare i trattori è tutto organizzato ok allora il gruppo organizzatore Tractor Version Samuele Fraticelli Marco Giustozzi Marco Menichelli Emanuele Crescimbeni Giulia Maria Santolini Arianna Clementi Alessi Ortolani e Stefano Fraticelli eccole qua Arianna e Giulia Un film di Emanuele Crescimbeni Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.